Amici di Teledeon, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con elettori ed eletti verso il 4 marzo 2018. Oggi incontriamo Francesco Ventola, grazie per essere con noi, consigliere regionale di Noi con l'Italia, il movimento che è stato creato, ormai lo sapete tutti, da Raffaele Fitto e candidato alla Camera dei Deputati per il centrodestra nel collegio Puglia 4, quello che comprende i comuni di Barletta, di Andria, di Canosa e di Trani. E' sostenuto da quattro partiti, quelli della coalizione di centrodestra che sono Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e naturalmente Noi con l'Italia. Ci siamo lasciati nei giorni scorsi parlando dei temi di carattere nazionale che sono ricompresi nel programma delle forze che la sostengono. Però nei giorni scorsi sempre, in particolare a Barletta, i candidati del centrodestra di questo territorio hanno preso un impegno serissimo con gli elettori. Lo hanno chiamato il patto per la nostra terra. e una brochure all'interno della quale sono ricompresi i sei punti programmatici che avete portato ad integrazione del programma nazionale. Parliamo del patto per l'agricoltura, il patto per il turismo, il patto per l'ambiente, il patto per la pesca, il lavoro e le imprese e l'ultimo sicurezza e trasporti. Questi sono i punti che vanno ad integrare il programma nazionale del centrodestra. Vediamo se in questo spazio riusciamo ad analizzarne alcuni. Poi nei prossimi giorni, quando torneremo ad incontrarci, analizzeremo gli altri. Cominciamo naturalmente dall'agricoltura. L'agricoltura perché è il cuore pulsante di questa terra. È il settore che ha consentito alla Puglia di uscire anche dalla crisi, affrontandola con una produzione che si è imposta all'attenzione nazionale per una straordinaria qualità e che ha dato anche reddito e lavoro alle nostre imprese, ai nostri agricoltori e un po' a tutta la nostra economia. Che cosa volete fare per l'agricoltura? Intanto abbiamo voluto sottoscrivere questo patto che poi si tradurranno in 5-6 proposte di legge nel caso in cui i cittadini ci diano la loro fiducia e quindi li proporremo come leggi. Perché abbiamo voluto fare questo? Perché sicuramente noi stiamo votando per il Parlamento italiano, quindi interesse generale di tutta l'Italia. Però essendoci i collegi, i rappresentanti dei territori, noi dobbiamo pur dire cosa vogliamo fare per il nostro territorio all'interno di un programma di carattere nazionale. Per cui di qui abbiamo, non solo siamo partiti da alcune idee già in essere in questi anni di cui si è lavorato, ma soprattutto abbiamo ascoltato le persone e abbiamo tirato fuori delle cose che sicuramente si possono fare. Agricoltura in particolar modo, una cosa che sicuramente faremo nel caso in cui vincessimo le elezioni come centro-destra, sì, e noi fossimo rappresentanti del territorio attraverso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e il Ministero delle Finanze istituiremo con legge in questo territorio All Italy. Così come esiste Vin Italy a Verona, cioè tutto il mondo viene a Verona dieci giorni all'anno per gustare, conoscere, comprare i nostri vini. Bene, noi vorremmo che qui nel nostro territorio venga istituita All Italy con le stesse tipologie e cioè che per dieci giorni all'anno tutti i buyer del mondo interessati all'olio vengano qui nelle nostre terre per guardare e soprattutto vivere con noi questo prodotto così importante e determinante. Significa poter aumentare necessariamente e opportunamente tutte le potenzialità di questo prodotto. È chiaro che All Italy è l'olio, ma inevitabilmente quando è qui buyer giapponesi piuttosto che cinesi, piuttosto che africani, australiani e altro è chiaro che hai un paniere di cose buone per le quali sicuramente possono aumentare le opportunità. Dall'altra parte bisogna necessariamente snellire un po' di burocrazia. Se io guardo l'organizzazione dei nostri Wats, per esempio, gli uffici che si occupano per esempio del carburante agricolo, il dramma che i nostri agricoltori devono vivere quotidianamente per queste pratiche di quanto gasolio deve avere e quanto non ne deve avere, qualcosa di allucinante. Dopodiché anche un miglioramento rispetto a quello che è l'attività di assunzione del personale per i nostri territori nel termine dell'ambito della sburocratizzazione. Perché siamo passati da un eccesso all'alto, siamo passati a contrastare il fenomeno del caporalato vessando anche quegli agricoltori che magari hanno piccoli appenzamenti e lavorano loro con i loro familiari e di tanto in tanto si trasferiscono le esperienze e anche le giornate lavorative. Io vengo a lavorare da te e tu vieni a lavorare da me. Beh, sinceramente questo è diventato qualcosa di allucinante perché uno ti arriva e ti fa 4.000 euro di multa. Allora, queste due o tre questioni sono temi che sicuramente vorremmo... Così come la PAC, l'attribuzione della... Assolutamente. Noi intanto abbiamo avuto la fortuna ed è candidato al Senato per il centro-destra, Sergio Silvestris, che d'Europarlamentare ha fatto una battaglia incredibile per mantenere il riconoscimento dell'integrazione nella scorsa PAC. E qua a noi servirà, come dire, dimostrare che la politica è a fianco dell'agricoltore considerando essi stesso prima di tutto come custode della bellezza del creato, mi piace sempre dirlo, perché un terreno abbandonato, non coltivato, diventa di per sé oggetto di ricettacolo, di scariche e altro. E quale è il maggior custode se non colui che lo coltiva? L'amore che ci mette un agricoltore, certo. Beh, la politica che fa? Dici no, visto che hai una partita IVA o un codice fiscale, io ti devo massacrare. Beh, questa cosa non va bene. Un utilizzo più razionale degli anticritogrammi ma che vanno utilizzati, ci mancherebbe altro, a differenza di altri che invece pensano che bisogna ritornare solamente alla cultura dell'orto così come era una volta. Il che significa che tutti i nostri frantoiani o cantine dovranno mettersi davanti a casa alla loro bottega, davanti al loro frantoio per vendere una bottiglia di olio al giorno. Cioè, diciamo, siamo pure venuti al mondo. Ecco, altra emergenza che va affrontata a livello politico naturalmente è quella della desertificazione. E su questo anche avete preso un impegno concreto. Sì, anche su questo è necessario che proprio per il ragionamento che si diceva, che diceva poc'anzi, che l'agricoltore possa avere un ricambio generazionale reale e concreto in maniera tale che possano inevitabilmente continuare a coltivare quella terra utilizzando le migliori tecnologie. E questo lo si può fare se hai una politica territoriale anche organizzativa che mette nelle condizioni il nostro agricoltore, come dicevo prima, di non essere versato ma di essere considerato invece un tutore dell'ambiente e soprattutto colui che ci consente di vivere bene perché starti una giornata in campagna significa stare all'aria aperta e significa vivere bene. Naturalmente. Questo è per esaurire il capitolo dell'agricoltura, ma questo territorio, in particolare i quattro comuni che la riguardano, che sono, ripeto, Andrea Barletta, Trani e Canosa di Puglia, sono legati anche da un'altra situazione macroeconomica che è quella che riguarda il turismo. Perché un fattore di crescita straordinario potrebbe essere quello che lega i castelli, le cattedrali. Un potenziale, fortunatamente, dico io, ancora inespresso, quindi con delle potenzialità incredibili. Perché immaginate se avessimo già sfruttato il turismo oggi di che cosa? Sono strettamente collegati tra di loro l'agricoltura, l'ambiente e il turismo. Dell'agricoltura, dicevo, del turismo sicuramente esiste in Italia la Borsa Internazionale del Turismo Culturale, che è organizzata in maniera itinerante. Ora, noi se eletti proporremo attraverso una proposta di legge l'istituzione nel nostro territorio in maniera stabile e permanente della Borsa Internazionale del Turismo Culturale. Dici, ma gli altri delle altre province o delle altre parti d'Italia stanno a guardare a noi? Sì, stanno a guardare a noi perché è un territorio questo che ha presenza di patrimonio dell'UNESCO, passa dalle terre al mare, dalla murgia al mare nel giro di pochi chilometri. Ha un percorso di castelli federiciali che non ci sono di nessuna altra parte. Stessa cosa di percorsi delle cattedrali. È un territorio che è stato sempre vissuto, basta guardare alla piana dell'Ofano con tutte le aree archeologiche di Canosa, Trinitapoli e altro. Quindi ci sono tutte le condizioni oggettive affinché ogni anno in questo territorio arrivino per dieci giorni all'anno i bar di tutto il mondo per poter contrattare, vendere e acquistare percorsi e pacchetti turistici. Il che significa anche per i nostri albergatori e per tutti coloro che vorranno investire in questo, avere una vetrina peculiare, perché non è il turismo del divertimento e altro, che si fa proprio nelle nostre terre e questo è un valore aggiunto in più che noi stiamo proponendo nell'ambito di una strategia di carattere nazionale. È determinante questo mettere in condizioni i piccoli di potersi ampliare come attività ricettive, i grandi anche a venire ad investire qui. Che cosa significa questo? Che sarà determinante anche il comparto ambiente. Cioè non sono singoli temi, sono trattati come titoli ma che si leggono tra di loro. Tutto questo può avvenire se noi interveniamo sul Ciappetta Camaggio e lo bonifichiamo, lo traslochiamo e rendiamo l'acqua che arriva a valle, quindi tra Barletta e Trani, pulita. Allora potremo sfruttare quelle spiagge. Dall'altra parte, con l'Ofanto, dicasi la stessa cosa. Chi può finanziare opere di bonifiche di sanamento ambientale di Ciappetta Camaggio e dell'Ofanto? Ricordiamo che se si parla di variati milioni... In totale di oltre 100 milioni di euro tra l'Ofanto e Ciappetta Camaggio. Che detto così sono tantissimi che nessun comune ha, che nessuna regione ha, ma che nell'ambito di un bilancio nazionale è certo che lo devo fare. Soprattutto perché viene visto sotto tre aspetti. Ambientale, salutare e terzo produttivo ai fini turistici. Se a questo ci inserisci il piano delle coste che è già in itinere, ma potenziandolo di investimenti, beh, significa avere un territorio che partendo da ciò che Maria Natura ci ha lasciato e cioè la nostra ricchezza, mare, sole, terra, beh, sicuramente possono diventare delle ottime opportunità di lavoro per tutti. E poi l'ambiente va anche rispettato per quello che è, anche contrastando quell'emergenza rifiuti che ha visto questo territorio pagare un costo altissimo. Inevitabile. Intanto, turismo ambiente significa che noi, nei nostri mari, impianti, offshore, non ne vogliamo vedere entro i 12 mila. Non esiste proprio. Senza se, senza ma. Ma perché siamo pregiudizialmente contrari? No. Perché in quel tipo di mare, se vuoi puntare sul turismo, devi fare una scelta. E quindi noi, noi siamo gli unici che stiamo dicendo che siamo contrari. Vediamo gli altri che cosa dicono su queste cose. E sul sistema dei rifiuti riteniamo che, partendo da una raccolta differenziata, spinta, come spesso stanno facendo già i comuni, bisogna dotare il territorio di quegli impianti che necessitano per chiudere il ciclo e allora sì far pagare di meno il cittadino. Impianti di compostaggio e impianti che trattano la parte dei rifiuti non più indifferenziata. Bisogna avere il coraggio di dirle queste cose e di farle, piuttosto di dire no a tutto. Perché dando poi quel no a tutto va alla tasca dei cittadini e alle città sporche che stiamo vicino. Sia città amministrate dal 5 Stelle, sia città amministrate dalla sinistra, sia città amministrate dal centro-destra. Perché se non si fanno gli impianti non c'è bandiera o sindaco che tiene che non può togliere i rifiuti per strada. A danno dei cittadini che poi sono costretti ad aumentare di più, ad essere aumentare di più la propria tassazione. Abbiamo parlato di agricoltura, abbiamo parlato di turismo, abbiamo parlato di rispetto dell'ambiente. Queste tre piattaforme, perché gli altri le trattano in maniera completamente diversa? Quali sono le differenze tra i partiti del centro-destra e gli altri partiti che stanno affrontando questa campagna elettorale? Noi come coalizione di centro-destra partiamo da ciò che è la nostra storia, non rinneghiamo pur avendo commesso tanti errori. Dopo aver fatto una fotografia dell'esistente abbiamo un'idea che è legata allo sviluppo, utilizzando le migliori tecnologie in senso lato. E tutto ciò che ci circonda può essere e deve essere utilizzato con le migliori tecnologie, ma soprattutto facendo in modo di lasciare ciò che abbiamo trovato meglio di come l'abbiamo trovato a coloro che verranno dopo di noi. È una cultura, oserei dire, cristiana di questo aspetto, che lo stesso Papa Francesco nell'enciclica ci ha detto più di una volta, ha laudato sì, perché da quando esiste l'uomo esiste l'ambiente, dipende sempre dall'uomo come lo caratterizza. Se ci mettiamo vincoli e sottovincoli, che è quello che vogliono fare il Movimento 5 Stelle o come ha già fatto la sinistra, significa non avere progresso. Ed è una scelta di vita, salvo però che hanno difficoltà a dirlo. Invece bisogna dirlo. Se non ci fossero stati determinati piani paesaggistici realizzati dalla sinistra nel nostro territorio, io dico sempre che non avremmo mai avuto la cattedrale di Trani o Castel del Monte. Bisogna lasciare, non al libero arbitro, alla fantasia dell'uomo, altro che punta velotti, è dell'uomo la possibilità di poter crescere. A noi è chiaro questo. C'è chi invece propone la decrescita felice, chi dice invece che noi dobbiamo consumare meno, spendere meno, lavorare di meno. Se non c'è ben i soldi c'è lo Stato che ce li dà indebitandoci, qualcosa allucinante, perché così possiamo avere più tempo per stare a casa e goderci la vita. Io questa cosa la contrasterò a vita, perché non è così, non è possibile. Uno pur se stesse da solo a casa non si può comportare così. immaginarsi in una nazione, che è una delle più importanti al mondo, che dipende dalle altre come le altre dipendono da noi, se noi possiamo dettare le regole di come dobbiamo vivere. Cioè da domani spegni la televisione così consumi di meno. Non produciamo, chiudiamo Cerano, arriva meno energie elettriche, che ci interessa? Pure se qualche azienda chiude prima vuol dire che produce meno e vuol dire che si lavora di meno e vuol dire che ci sono tanti disoccupati per strada e vuol dire che la gente andrà da solo in giro a parlarsi da solo solo con uno smartphone in mano. Cioè è un modello di vita che noi contrastiamo. Turismo, ambiente e agricoltura tra l'altro sono i tre sbocchi più importanti proprio per i giovani. Beh, per i giovani e per questo territorio. Rappresentano, mi viene da dire quasi, la nostra materia prima. È quella che noi abbiamo e che finora non abbiamo adeguatamente sfruttato. E questo servono molto i giovani perché attraverso lo studio, attraverso le loro esperienze magari avute all'estero, attraverso, come dire, la voglia di crescere e dell'entusiasmo, beh, guardano quello che c'è intorno. E sono loro che lì sì che devono stuzzicare la politica nel dire pretendiamo strade pulite perché se io devo far venire il turista perché ho aperto il ristorante, devo avere la sala stata pulita e non è che la posso pulire io. Tu, Stato, tu, Comune, tu, Regione, mi devi garantire questo. Questo sì. Per cui, ma tantissime, tantissime, tantissime possibilità che possono emergere da questo. Solo crescendo si hanno le possibilità, solo sviluppandosi, solo con l'innovazione si hanno le potenzialità di lavoro. Decrescendo si hanno l'aumento di potenzialità di disoccupati. Perché dovrebbero votare Francesco Ventola? Ma io ho sempre detto, io mi sono candidato e mi candido solo se votano i cittadini. Non sono mai stato nominato, non ho mai accettato nessuna nomina. Credo nel sistema dei partiti, dei movimenti come modello organizzativo per poter amministrare. Non contesto coloro che invece parlano di falsa partecipazione e che immaginano che attraverso un click su una piattaforma si possa definire le diverse strategie che si andranno a fare in futuro. Di una piattaforma che non si sa chi deve gestire. Non credo in coloro che hanno avuto possibilità di governare come il centrosinistra di questi anni. Ha approfittato di bonus, ha fatto una falsa abolizione delle province, ha tagliato servizi ai cittadini pur di raggranellare qualche voto in più. Io invece credo in quella coalizione che questa volta si ridurrà le tasse, si starà a fianco dei pensionati garantendo loro il minimo indispensabile per sopravvivere, quindi non meno di mille euro, si a fianco dei giovani perché coloro che entrano nel mondo del lavoro per un certo numero di anni non devono pagare tasse, che si aprono loro un'azienda o che vadano a lavorare per conto di un altro. La stessa cosa vale per tutti quelli oltre i cinquantenni. E qui appartengo a quella classe, a quella parte politica che ha dei valori solo per la famiglia, pur rispettando quelli che sono altri tipi di scelte. Ma io non potrò mai consentire che due uomini o due donne possano adottare un bambino. Lo dico in maniera chiara. Sono dalla parte del presepe, sono dalla parte del crocifisso, sono dalla parte della vera integrazione, che se tu arrivi a mare io ti devo salvare la vita, ti devo dare l'ospitalità, ma dopo tre, quattro, cinque mesi se non hai trovato un lavoro vai via, ti pago il biglietto e vai da un'altra parte. E se stai qui devi rispettare le mie regole come io rispetto le tue. Ecco, in maniera netta, sono da questa parte. Perché votare per me e non per altri? Perché io sono una persona che non vive di politica. La politica per me è realmente una passione. E l'esperienza acquisita in questi anni di sindaco, presidente di provincia, consigliere regionale, sempre eletto dai cittadini e mai nominato, credo che sia un valore aggiunto per questo territorio. In maniera tale che nell'ambito di una politica nazionale ci sia chi è bravo a potersi proporre, a dialogare con tutti, a portare a casa dei risultati che hanno un unico obiettivo. Quello di farci riprendere, di consegnare gli anni futuri a coloro che verranno dopo di noi e a noi stessi meglio di come ce lo stanno consegnando. E allora ringraziamo Francesco Vento, la consigliere regionale di Noi con l'Italia. Grazie per essere stato con noi. Restate con i programmi di Elettori ed eletti verso il 4 marzo 2018.